The cabin has turned on the seatbelt sign. Please take your seats. Buon salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Quanto pesa un aereo? Oggi cercheremo di rispondere a questa domanda che è abbastanza interessante perché noi siamo abituati a pensare che gli oggetti che volano siano incredibilmente leggeri, ma come vedremo questo non è sempre vero. Prima di parlare di numeri, ovvero di quanto pesano le varie categorie di aerei, è necessario capire cosa conferisce peso all'aereo. Infatti non è semplicemente l'aereo in sé con la sua struttura che conferisce il peso all'aereo stesso, ma vi sono una serie di cose all'interno che possono far variare questo peso. Il peso a decollo di un aereo è somma di vari altri pesi. Innanzitutto abbiamo la struttura dell'aereo, ovvero tutto il materiale che compone l'aereo, tutte le sue parti, la fusoliera, le ali, i motori, tutti i sistemi, quindi l'aereo vero e proprio. Poi abbiamo il peso di passeggeri, bagagli, merci trasportate a bordo dell'aereo. Poi abbiamo il peso del carburante. Poi ci sono altre voci che concorrono al peso dell'aereo. Abbiamo il peso dell'equipaggio, piloti e assistenti di volo. Abbiamo il peso del catering, che significa i carrelli per trasportare la roba da mangiare o del duty free. La roba da mangiare, l'acqua, le bevande che vengono offerte ai passeggeri. Poi abbiamo l'acqua potabile, quella che viene utilizzata per i rubinetti delle toilette e anche per altri usi all'interno dell'aereo. I liquidi per la toilette, cioè quel liquido blu che viene utilizzato per gli scarichi delle toilette. Questi due fluidi, l'acqua potabile e il liquido per le toilette, sono immagazzinati in due serbatoi distinti che sono a bordo dell'aereo e che hanno una discreta capacità. Poi abbiamo gli oli lubrificanti, che sono presenti all'interno dei motori e dei sistemi, anche tutti i fluidi idraulici. Abbiamo gli estintori, gli equipaggiamenti per l'ossigeno e gli equipaggiamenti di sicurezza, quali ad esempio scivoli o tutti quegli equipaggiamenti per operazioni specifiche, tipo quando si sorvolano aree polari, desertiche e così via. Ma qual è il peso massimo al decollo delle varie tipologie di aerei? Allora, partendo dagli aerei più leggeri, abbiamo gli ultraleggeri, che sono aeromobili da non confondersi con gli aerei da turismo. Sono aerei, come suggerisce il nome, estremamente leggeri, pesano al massimo al decollo 450 kg e questo peso così basso è determinato dal fatto che sono aerei molto piccoli e generalmente con una struttura estremamente leggera. Un aereo da turismo, quale potrebbe essere ad esempio un Cessna, un PA28, quindi aerei di piccole dimensioni per poter fare turismo, pesa tra 1000-1500 kg come peso massimo al decollo. Se consideriamo bimotori di piccola dimensione, quali potrebbero essere ad esempio un Piper Seneca, un Partenavia P68, quindi bimotori piccoli, sempre aerei per lo più da turismo, il loro peso massimo al decollo sarà 2000-2500 kg, quindi saremo in quell'intorno. Se consideriamo i jet executive, quelli che normalmente vengono chiamati jet privati, il loro peso massimo al decollo si aggira tra i 6000 e i 9000 kg in base al modello. Parliamo adesso di aerei di linea. Un Airbus 320, NIO oppure un Boeing 737-800 pesano al massimo al decollo intorno ai 79000-89000 kg. Quindi questi sono gli aerei più diffusi nel mondo per l'aviazione di linea e sono quelli che verosimilmente prendiamo per spostarci da un punto all'altro per i voli nazionali e internazionali. Un Boeing 777-300, un aereo da trasporto intercontinentale, un vero bestione dell'aria, ha un peso massimo al decollo nell'ordine dei 300.000 kg. Tra gli aerei più grandi al mondo per trasporto passeggeri troviamo il Boeing 747-8, con un peso massimo al decollo di circa 400.000 kg, è l'Airbus A380, che è l'aereo più grande per trasporto passeggeri, che pesa al massimo al decollo 575.000 kg. Ora, questo è il peso massimo al decollo, cioè il peso massimo che l'aereo può sopportare per il suo decollo. Ma in realtà il peso della sola struttura dell'aeromobile va dal 45 al 60% in base al modello del peso massimo al decollo. Quindi prendete i valori che abbiamo detto poco fa, li dividete per due e all'incirca avete un'idea di quanto pesi il solo aereo. In più aggiungiamo che normalmente gli aerei vengono operati tra il 70 e il 90% del loro peso massimo al decollo. Raramente arrivano vicini al peso massimo al decollo. E questo perché naturalmente le varie voci di trasporto possono cambiare. E' difficile che una compagnia viaggi con il massimo dei passeggeri e con il massimo del carburante possibile, arrivando di fatto al peso massimo al decollo. Anche perché per il medesimo aereo noi potremmo avere diverse tipologie di carico perché magari in un volo ci sono più passeggeri, in un altro volo ce ne sono di meno, oppure il volo è più lungo e quindi abbiamo bisogno di imbarcare più carburante. Quindi rispetto al peso massimo al decollo, il peso effettivo di decollo dell'aereo varia da volo a volo. E questo ci porta ad un'osservazione. Tanto più gli aerei sono capaci di trasportare peso in volo, tanto più sono non solo grandi come volume, ma hanno anche delle ali più generose, più grandi. Questo perché, tra le altre ragioni che mantengono in volo l'aereo, la forza della portanza, cioè la forza che sostiene in volo gli aerei, dipende in maniera direttamente proporzionale dalla superficie all'are. Quindi se noi abbiamo più peso, dobbiamo avere necessariamente più superficie all'are, se vogliamo mantenere velocità di volo praticamente uguali per più o meno tutti gli aerei. Un'altra osservazione che va fatta è che il peso dell'aereo diminuisce durante il volo, perché il carburante viene consumato dai motori e quindi l'aereo si alleggerisce. Questo determina che i costruttori prevedano un peso massimo al decollo e un peso massimo all'atterraggio. Il peso massimo all'atterraggio sarà quasi sempre minore o uguale, al più uguale, del peso massimo al decollo. Questo perché durante le corse di decollo il carrello è molto meno sollecitato rispetto alla fase di atterraggio, dove il carrello assorbe lo shock dell'urto contro la pista. Ecco perché la limitazione all'atterraggio di solito è più stringente. Quindi come si può fare nel caso in cui sia necessario atterrare subito dopo il decollo, quindi magari si è decollati nei limiti di decollo ma non si è nei limiti di atterraggio, perché magari si è avuto un'avaria e quindi è necessario rientrare all'aeroporto. Beh, in questo caso ci sono due soluzioni. La prima, che non è presente su tutti gli aerei, è la fuel jettison. Quindi ci sono delle valvole che nebulizzano il carburante nell'aria, di fatto rilasciandolo in atmosfera. Il carburante difficilmente arriva a terra perché viene finemente nebulizzato e quindi sostanzialmente potremmo dire che evapora, anche se non è correttamente così. Perché comunque è una sostanza oleosa. Diciamo che questo spray rimane in sospensione nell'aria e poi si diffonde senza troppo rischio per la salute di chi si trova al di sotto. Ovviamente la procedura di scarico del carburante non viene effettuata su centri abitati, ma viene effettuata in apposite aree che sono previste e indicate soprattutto dal controllo del traffico aereo. Se sull'aereo non è previsto questo sistema perché magari le due limitazioni sono molto vicine, quello che di solito si fa è consumare il carburante aumentando la resistenza dell'aereo. Quindi aprirò spoiler, flap, carrelli, tutto quello che aumenta la resistenza dell'aereo e quindi per rimanere in volo dovrò utilizzare una spinta maggiore e questo farà aumentare i consumi. E quindi nel giro di pochi minuti l'aereo rientrerà nei limiti anche per l'atterraggio. Bene, il video termina qui, io spero che sia stato interessante. La foto di oggi ce la invia un iscritto veramente dei primissimi tempi del canale, Biagio, che ho avuto la possibilità di incontrare diverse volte e che saluto davvero caramente. Qui si è fotografato con una maglia del canale. Approfitto per salutarlo caramente anche perché lui è nella foto del primissimo raduno di Bari insieme agli altri impavidi che quel giorno furono insieme a me. Ormai sono passati quasi due anni. Se anche voi volete inviarmi le vostre foto, magari fatte vicino a un aereo con la maglia del canale e così via, potete inviarle nell'email che appare qui sotto. In più ricordate che il canale ha anche un podcast dove parlo, in questo momento sto parlando dell'incidente della German Wings, sul solo canale audio. Quindi trovate i link per poter partecipare al podcast in descrizione. In più c'è anche il canale Telegram dove a intervalli settimanali pubblico piccole curiosità in merito all'aeronautica civile e anche aggiornamenti sul canale. Quindi non perdetevi il gruppo Telegram se non siete già iscritti. Se il video vi è piaciuto, come al solito, vi invito a mettere mi piace, a condividerlo con i vostri amici e a commentare se avete dubbi, suggerimenti o domande. E il 13 luglio, se vi trovate dalle parti di Napoli, sappiate che c'è il raduno del canale. Trovate tutte le info per questo raduno, per incontrarci dal vivo, nella I che appare in alto a destra. Come sempre, non posso che ringraziarvi per la vostra attenzione e vi do appuntamento a un prossimo video.